Ci rincontriamo, Goku, eh? Dannato Freezer! Ormai sei spacciato, Freezer, arrenditi! Arrendermi io? Non hai ancora visto la mia vera potenza? Non hai mai visto la mia quinta trasformazione? Cosa? Può ancora trasformarsi? Ma allora adesso tocca a me! Super Saiyan? Ora basta, ridurrò il tuo piede in un ammasso di materie interstellarie! E tu morirai con lui! Non credo! A me! A me! Addio, l'unito Saiyan! Ma non può essere! No! A me! NOOOOOO Grazie a tutti